NERIO ALESSANDRI 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 Tekno Gym ha una cultura del design del Italian design e abbiamo fatto i prodotti che sono dei componenti di arredamento e crea un ambiente stimolante e un ambiente emozionale Il disegno italiano è molto importante per Tecno Gym e una delle strategie più importanti è di creare un ambiente, un ambiente e un'atmosfera dentro del gimnasio. Tecno Gym ha portato l'innovazione nell'allenamento sia cardio che strength che functional. Tecno Gym busca innovazione nell'entrenamento, in cardio, in fuerza e in funcione. Ed è in grado di fare bespoke, tailor made, un'offerta a chiave in mano. E desarrolla un'offerta personalizzata completa. Tecno Gym è leader nel mondo, ha il brand globale e abbiamo le migliori referenze negli hotel, nei club, nelle corporate. Tecno Gym è una marca leader globale e tiene moltissima referenza di altissimo livello nei club, nei hotelli e nel mercato corporativo. Tecno Gym vuole creare una partnership con gli operatori per creare più, per mettere in movimento molti più persone, per fare un'attività di wellness activation. Tecno Gym trabaja in una maniera di partnership con gli operatori per aiutare il mercato e il settore a ampliarsi. È possibile portare la popolazione, dal 5-7% della popolazione, a fare movimento, a prendere, diciamo, confidenza con il movimento, fino a Tecno Gym ha un sogno di arrivare al 20%, 30%. Con questa partnership podemos creare un sogno, del 5-7% della popolazione che entra oggi, podemos arrivare al 20-30%, grazie a questa partnership. Il nostro progetto è di dare un contributo sociale al paese e di dare un contributo sociale alla popolazione. Il nostro progetto è di buscare una contribuzione sociale ai paesi, di buscare una contribuzione sociale alla società. E stare bene conviene, stare bene conviene ai governi, alle imprese e alle persone. Il benestore è una idea che è molto buona per i governi, per le persone e per le imprese. La salute è bene. Questo è un unico modo per garantire la sostenibilità del pianeta e dell'umanità nei prossimi anni. Salute è il desarrollo. E questa è una maniera per garantire la sostenibilità economica e sociale nel futuro. Let's move for a better world. Let's move for a better world. Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel Let's move for a better world. No, dear. Grazie a tutti